fin se qui era in fondo a quella sala fin deve essere qui in giro di sopra fin andiamo dobbiamo risolvere la questione io e te il progetto è lì devo seguire il corridoio avanti lumaca voglio vedere il nostro progetto prima di diventare vecchia arrivo arrivo e dove ci hanno messo ho la mappa del museo nel telefono il nostro progetto è in una temporanea all'ultimo piano voglio vedere i nostri nomi sulle etichette come veri scienziati oggi il museo della scienza oscorp domani i più grandi musei del mondo la cultura di alghe è fondamentale per la sopravvivenza nei fondali marini chissà di cosa sono le alghe di cavolfiore io l'odio la terra è più grande di quanto pensi il 95% dei mari sono inesplorati essi rappresentano la nuova frontiera dell'abitazione umana è strano ma sappiamo ancora poco del nostro pianeta questo è uno scafandro progettato all'inizio del diciottesimo secolo le prime tute pressurizzate furono sviluppate per le operazioni di recupero secondo te posso provarla? cosa darei per vederti in giro con quella tutina? non sarà peggio delle scarpe che avevi al ballo di primavera senti chi parla avevi i tacchi più alti dei miei ecco l'ascensore la temporanea è al piano di sopra ma prima curiosiamo in giro avete i biglietti per la temporanea? oh, credevo che avendo partecipato non avessimo bisogno del biglietto invece sì e sono finiti non potete salire grazie allo stesso ok, quindi come entriamo? i biglietti sono finiti, sentito? sì, ma vedi quella porta? dietro c'è un corridoio che gira intorno all'ascensore ma non possiamo dobbiamo la mostra finisce domani è la nostra ultima occasione per vederla chiusa conosco le serrature di quel tipo si aprono quando vengono illuminate le torce dei cellulari potrebbero funzionare ma è troppo lontana idea infiliamo una superficie riflettente sotto alla porta deve riflettere la luce qualcosa di mutevole sarebbe l'ideale mutevole? cioè che cambia forma? nei complimenti per la tua proprietà di linguaggio smettila lega memoria di forma posso modificarla con l'app del museo questa roba è pazzesca ci siamo prendila non farti vedere fatto andiamo oh ehi scusa tranquillo serve una superficie riflettente gli strumenti esterni comunicano direttamente con il computer nel modulo di comando potremmo partire da quest'idea ma con un'interfaccia neurale però rischiamo un sovraccarico del sistema ma non se lo integriamo nella rete complessiva da più punti d'accesso pensi di farcela? con la calma dei forti e litri di caffè sicuro per il caffè offro io bel lavoro potrei farcela è ora di tornare al lavoro la pausa pranzo ormai doc mi dispiace ma devo prendermi il pomeriggio libero è un'emergenza ancora? peter è successo qualcosa? qualche problema a casa lo puoi parlare lo sai? no va tutto bene ma devo andare mi dispiace tranquillo il lavoro può aspettare non c'è fretta grazie doc quel ragazzo è un vulcano di idee portiamo un espositore sull'energia c'era qualcosa sull'energia solare vicino alla porta chiusa hai ragione l'espositore sull'energia solare dovrebbe avere qualcosa di utile oh guarda pannelli solari e dietro sono anche adesivi perfetti per una serratura fotosensibile prendine uno attacco l'adesivo al metallo andiamo penso io alla luce dimmi quando l'adesivo è puntato verso il sensore e l'accendo non ci guarda nessuno facciamo in fretta non ci siamo riproviamo no aspetta grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Ok... Grazie a tutti. Esistono due punti di Lagrange stabili tra la Terra e la Luna, e uno è occupato dalla stazione scientifica Oscorp, che in futuro potrebbe ospitare scienziati permanentemente. Mi piacerebbe vivere in una stazione spaziale. Uno dei principali tra... 17, credo... Apollo 18. Mi piace... Non importa... Non importa... Fin... 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 Devo... Devo... Fin... ...e... 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 Non puoi fermarci! Non puoi fermarci! E mia madre? Siamo arrivati con una decina di persone, ma siamo... Ti ricevo male! Genki? Dove siete? Se mi senti, sto arrivando! Resisti, amico mio! Tieni duro! Ho mai visto una tempesta così! Genki? Mi senti? Genki? Tenete duro! Arrivo! Grazie! Grazie! Il nemico in aria! Scappate, scappate! Stai scappato su! Ora ti faremo a pezzi! L'espaccio da forte e il barbiere si andranno a posto, ma devo portare la battaglia lontano da qui. Camila! Sei con Caleb? State bene? Sì, siamo con Lorto, ma la situazione è grave. Sembra non perdere i tempi della crisi. Non arriveremo a quel giugno. Non glielo permetterò. State al sicuro mentre libero le strade. Sì, c'è il resto! Sì, c'è il resto! No! Non si sapeci di là! Sì, c'è il resto! Non le pessoa che lo sapecchiamo a posti! Sì, in aria! Non si sapeci di là! Il resto è un uomo! Altri scontri sui detti, qui si mette male. Sì, sono scappati tutti. Manchi solo tu a farlo fare. Dove sei? Sulla centoventicinquesima. Cerco mia madre. Qualcuno ha visto il nuovo Spider-Man. Ti proteggerà lui, quindi non fare stupidarmi, ok? Battene da lì. Ok. Sì, lascerò fare a lui. Stai attenta, Gloria. Anche tu. Anche tu. Quello è il nostro condominio. Mi sto perdendo nella tempesta. Per seguire gli spari. Nascosti nella bodega di Teo. Non si si mettono male. Deve... Sono nella bodega di Teo. Sì, qui vicino, ma prima devo liberarmi di Rockson e Underground e liberare le strade. Non deve stagliare. Non è lontano chiunque da Teo. Non è lontano chiunque da Teo. Non è lontano chiunque da Teo. Spiderman! Spiderman! Riportiamola a terra! La bottega di Theo è lì Però che Spiderman stia bene Convergete subito sulla palla Il centro della battaglia sembra qui Devo fermare Genki, Genki dove sei? Riuscite a mettervi in salvo? Chi è? C'è qualcuno? Ragazzi, ragazzi, ascoltatemi Dobbiamo andarcene, ma non posso portarvi tutti Ha già iniziato Ragno avvistato Via di qui, presto! Oh! Hai cose più importanti da fare Ha ragione Vai Qui ci pensiamo noi Tornerò Lo so Presto, gente! Fussate a ogni porta Non lasciamo indietro nessuno Tu non sai Che stai facendo? È solo Quello che si meritano No! Il reattore Krieger l'ha riconfigurato Non distruggerai solo il Roxxon Plaza Spazzerei via anche Harlem Sono stanca di tutte le tue bugie È troppo tardi Ma Non posso permettertelo E io non posso fermarmi Non vedi cosa sta facendo il reattore Distrugge il plaza Il grande monumento di Krieger Devi avartene da qui Per favore Non voglio farti del male Non me ne vado da qui, Finn Non puoi aiutarmi a salvare tutti o uccidere Troppo lento A te la scelgo Scriva pure, tanto non ti servirà Se il plaza esplode porterà con sé tutta a lei Che te l'ha detto? Krieger, ho calcolato tutto Perché non vuoi ascoltarmi? Krieger non può aver modificato Non voglio combattere Parleremo Dopo aver disattivato il... Nice Finn, guarda! Il reattore è ormai al limite Tra poco non potremo più fermarlo No! Non cucirò ancora! Eri l'unico che avrei voluto dalla mia parte Sono dalla tua parte Se ti montiamo i dati su Luform La Roxxon è finita Illuso Non mi importa nessuno Da quando sei così veloce? L'hai sentito? Dobbiamo fermare il reattore Sei lento, Miles Non voglio combattere Finn Allora smetti Fattene! Non abbiamo finito Non abbiamo finito Ah, la grande lesa dei corti Che spettacolo Scusate se mi intromesso Ma volevo giusto Spettacolo Noi non corriamo rischi In caso di attenzione Potrebbe saltare in aria Scusarlo Ma per quanto mi riguarda Avete idea? Scusate di assicurazione Che ho firmato Saremmo vinti Vedenti Allora Altro che Roxxon Plaza Sa per nascere Roxxon? Sì Ci vediamo ragazzi Ti ho concesso Tutto il tempo Di andare A fermarlo Ma non così Non costringermi a ucciderti Non puoi vincere Perché combatti ancora? Devi aiutarmi Perché Sono Spider-Man Viene il reattore Sta per distruggere L'intero quartiere Solo se ti arrendi Ruote della morte Ok Stai indietro Devo Schivarle Più armi crei Più io ne distrutterò Prima farei i conti con me Fermati Meglio muoversi È finita Miles Sì Lo so Basta ascoltarti Non lo hai mai fatto Non vado da nessuna parte E neanche tu Non puoi fermarmi Ma ci proverò fino alla fine Non vado da nessuna parte Non doveva succedere Posso fermarlo Finn Mi spiace Tutto ok Non vado da nessuna parte Resta un po' con... Solo un ultimo sforzo! Devo... sbrigarmi! E esploderò da un momento all'altro! Ci sono... quasi... Andiamo! No! Vain, da guardare! Vain... No! 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 E' così giovane. Ehi, vai via, ragazzo. Ci pensiamo noi. L'avete visto in faccia? Sei stato bravo, Spider-Man. Grazie. Ma chi è? Chi è lui? È il nostro Spider-Man. Andiamo, si vede che è tutto finto. È un fake al computer. Non capite? Sapete con chi avete a che fare? Io vi rovino. Sì, sappiamo chi sei. Io vi rovino. Avete capito? Esatto, amici. Simon Krieger è stato arrestato. Aaron Davis, noto anche come Trailer, ha tradito lui e la Rosso. Davis andrà in prigione, ma forse con una pena ridotta. Gli eventi di Harlem ci hanno insegnato una cosa importante, che l'unione fa la forza. E che avere uno Spider-Man di quartiere non è male. Molto bello, Ailey. No, non capite. No, 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 siamo di bacaccia. Ci vediamo. Ehi, bello, com'è? Tutto ok alla grande. Ci si vede in giro. Ehi, devo ancora abituarmi al costume. Ha il suo effetto. È merito mio. Come no? Pit, diventerà mai più facile? Per certi versi, sì. Per altri resta complicato. La Roxon è venuta qui perché ci considera sacrificabili. Me, Rick, Finn. Tutta Harlem. Penso sia nostro dovere impedire che possano farlo franca. Lo aggiungo al giuramento di Spider-Man. Andiamo? Andiamo? Andiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.